Ciao ragazzoli e ragazzole, sempre più facile girare i video, soprattutto con questo caldo. Sì, lo so, l'estate mi piace molto, veramente, non è uno scherzo, mi piace sul serio l'estate, but, forse stiamo un attimo esagerando, mi darei una calmatina di saluto questo clima, ce l'abbiamo a luglio e vabbè, e abbiamo parlato anche del tempo, very English today, anche se non è oggi il giorno del video dedicato alla nostra cara, amatissima, Gran Bretagna, quindi, spoiler, sì, ci sarà un video appunto in cui vi consiglio un po' di letture legate appunto alla Gran Bretagna, un po' period, un po' period Gran Bretagna, di quel corso mi piace, poi capite immaginare, io lo so, io vi conosco, vi conosco, soprattutto le mie ragazzuole, l'attore, tutto bello, figo, col vestito un po' period drama, so che piace. Quindi, quindi, oggi no, oggi parliamo d'altro, oggi è più facile il video, perché quello del period devo metterci gli uditi di testa, qua invece la testa la posso lasciare tranquillamente in un'altra stanza, non ci serve fondamentalmente, non è molto utile, perché oggi vi parlo come da titolo dei 5 più 1 libri che io vorrei tantissimo leggere quest'estate, che belle stelliste che poi non vengono mai rispettate, però è sempre bello parlare di libri che vorrei, no, in realtà, cioè, li voglio proprio leggere, sono proprio serie al 100%, proprio, li voglio proprio leggere, tra l'altro di queste dimensi, perché io, giustamente, non mi so molto dare una regolata, allora, iniziamo subito, vi spiego la trama, vabbè, di questi libri, e del perché io voglio proprio leggere queste, cioè, c'è un motivo in realtà dietro, ad alcuni di questi, altri perché proprio mi interessa, vabbè, ciò facciamo oggi, è una giornata complessa, cioè, allora, no, oggi la giornata non è complessa, ma vengo da una settimana molto complessa, sono sincera, non sapevo se l'avrei fatti, cioè, se avrei fatto questo video, ma questo video in generale, non questo in particolare, video in generale, da qui in avanti fino a, non lo so, settembre, credo, voi sapete che di solito il canale si ferma ad agosto, c'è stato un momento, una parte di me, in cui ho detto, sì, vabbè, basta, fino a settembre, ottobre, perché non è un periodo tanto facile, anche se il canale, in realtà, per me è sempre stato una ottima valvola di sfogo, e soprattutto un momento soltanto per me, presa singolarmente, in cui dedicarmi a qualcosa che amo, però, non essendo un periodo tanto facile, non so bene come verranno questi video, quindi, perdonatemi, bisogna di tanto stravarlo. Allora, i 5 più 1 libri che vorrei leggere quest'estate, posto che mi piacerebbe avere il tempo, la testa e la possibilità e capacità di rilassarmi un attimo, e di riposarmi. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo, Blonde, che non mi ricordo onestamente quando l'ho comprato, se stavo facendo i conti, sì, settembre 2020, in realtà, Blonde, ho già letto questo io di Blonde, nell'arco di un anno l'ho letto quello, perché, al di là di questa cosa, dell'edizione Bonpiani, ecco, io vi do un consiglio spassionato, io questa l'avevo comprata usata, ma, se voi riuscite a trovare, cioè, mettete che trovate sia questa usata che costa poco, è l'edizione nuova della nave di Teseo, che è bellissima, con su Marilyn in copertina, con una foto stupenda, con tutto lo sfondo nero, comprate quella della nave di Teseo, perché è scritta un po' più grande, perché questa è scritta così, cioè, e voi capite che scritto così non è facilissimo, io non sono presbite, assolutamente ci vedo, però è di una difficoltà di lettura, perché, vi giuro, mi stanca gli occhi, e soprattutto non vi sembra mai di andare avanti, cioè, vi sembra di essere sempre sulla stessa pagina, perché è lunga leggere una pagina scritta così, e vi giuro, io avrei preferito un malloppo alto così, però scritto un pelo più grande, cioè, mi faceva veramente meno fatica. Quindi, che cos'è Blonde? È la storia, ovviamente, di Marilyn Monroe, è la storia di Marilyn Monroe narrata da Joyce Carol Oates, per cui ci si focalizza più su, in realtà, non tanto Marilyn, ma su Norma Jean. La particolarità di questo romanzo è che è come se fossero quasi due entità separate, io non sono ancora entrata proprio nel vivo del romanzo, ma è come se Norma Jean fosse la parte più, se vogliamo, più pura, più vera, e Marilyn, invece, è la maschera che indossa Norma Jean per tutti gli altri, per il mondo dello spettacolo, ecco, soprattutto. Ma io temo che dopo, ad un certo punto, lo indosserà anche nel privato, e quindi ci sarà un po', diciamo, questo... il fatto che comunque lei non riesca a tenere separate queste due personalità, e il fatto che questa personalità di Marilyn, così prorompente, così fanfatale, quasi, anche svampita, che piace, e così, tutti pensano che, insomma, Norma Jean sia quello, quando in realtà, no, è più un'immagine costruita, e diventerà sempre più difficile staccare le due personalità, anche proprio per lei, non soltanto per le persone che le stanno vicino. È una parabola molto tragica, già si capisce dal tono dell'inizio, comunque, la storia di Marilyn Monroe è comunque molto tragica. Però, insomma, ero molto curiosa di leggerlo, perché, tra l'altro, il 23, se non ricordo male, al di settembre di quest'anno uscirà, finalmente, il film con Anna de Armas, che interpreta, appunto, Marilyn, intratto da questo romanzo. Esiste già un teaser, trailer, è un film che uscirà per Netflix, ispiriamo in bene, che abbia reso giustizia, finalmente, a Marilyn Monroe, finché, tra l'altro, penso che durerà quasi tre ore, insomma, quindi, lo spazio di manovra ce l'abbiamo, ecco. E niente, quindi sono intenzionata a terminarlo, entro settembre, se non altro. Poi, d'estate, io amo anche leggere molto dei libri che mi distendono il cervello, soprattutto colgo l'occasione per leggere dei libri che mi serviranno, poi, per lo Spooky di Time. Visto che quest'anno ancora non ne ho letti tantissimi, io non so bene come riempirlo, sto Spooky di Time, anche se ho in mente dei video collaterali, uno ve lo anticipo, cioè, ve lo anticipo nel senso adesso, quest'estate. C'è un video che mi piacerebbe tantissimo fare, e quindi, che però, ha delle tematiche semi-horror, e quindi, vabbè, ve lo anticipo comunque quest'estate. Pace amen. Volevo leggere questo, che è Il Club du Mà, di Arturo Perez Reverte, questo mi sa che l'ho trovato su Unemmouse, to' vedi un po', che di solito spendo tutti i miei soldi. Da questo romanzo, hanno tratto il film La nona porta, quello con Johnny Depp di Roman Polanski, però, non so in quale misura, cioè, non so se effettivamente il film rispecchi perfettamente questo romanzo, o meno, è un libro sui libri, che è una cosa che amo molto, e infatti c'è appunto questo protagonista che fa delle indagini sui libri. Tanto parla anche, si chiama Il Club du Mà, perché parla anche dei tre moschettieri, che a me non ricordo, nella nona porta che venisse citato, i tre moschettieri, per quanto è un film che mi piace tantissimo, ogni tanto anche rivedo, che appunto parla di questo libro maledetto, che si diceva che lo diavolo ci aveva messo lo zampino, no? E poi appunto Luca Scorso, che l'ha interpretato da Johnny Depp, fa varie eventuali indagini, per scoprire qual è la differenza anche tra le varie edizioni di questo libro, poi c'è tutta una storia maledetta dietro, poi è chiaro che dopo succedono dei fatti piuttosto gravi, mano a mano che lui si avvicina alla verità, e quindi ero molto curiosa di leggere questo romanzo e cercare di capire in quale misura Polanski si è ispirato al libro e quant'altro. Questo secondo me è uno di quei libri che ti tengono incollate le pagine, cioè io sono molto felice di leggere un romanzo del genere. A proposito di incollate le pagine, questo ve l'avevo fatto vedere abbastanza di recente, che è Dover Beach di Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio ha scritto un libro bellissimo che si chiama La Gang dei Sogni, che vi consiglio di leggere se siete appassionati di film, come C'è una volta in America, perché appunto parla di questo gruppo, cioè di questo gruppo, in realtà era un bambino con sua madre che emigravano negli Stati Uniti d'America da un paesino italiano, non mi ricordo io dove, perché vi giuro l'ho letto tantissimi anni fa, non avevo ancora il canale quando l'ho letto, è capitato come lo nominassi però un po' di volte, La Gang dei Sogni. Ed è un libro veramente meraviglioso, che vi consiglio di recuperare appunto, perché ha quei toni un po' da favola violenta però, e anche abbastanza criminale, stile, c'era una volta in America, di Sergio Leone, più tutta un'altra serie di film, diciamo su quel filmone lì, ecco. In realtà questo Dover Beach mi ha stupito parecchio, perché invece è un thriller piuttosto violento, dice è un bambino di 9 anni, è un feroce assassino incanterato con la notte di sangue dei suoi 9 anni, è il suo grido che lacera il silenzio nel quale si è rinchiuso il commissario Giacomo Amaldi, dopo il caso dell'impagliatore, che probabilmente era un libro prima rispetto a questo, la caccia a stare al killer ricomincia al Dover Beach, il locale dove si incontrano violenza e amore, ma in realtà l'avevo trovata nella trama, non mi ricordo se l'avevo sbeccata, forse quando ve l'ho fatto vedere ve l'ho letta da qualche altra parte. Comunque mi incuriosiva, non lo so, probabilmente non è il seguito, ma si vede che il protagonista di questo libro, l'investigatore, era in un altro romanzo, però io ho trovato questo e non lo sapevo, l'ho comprato perché era di Luca di Fulvio, ma mi incuriosisce tantissimo e quindi me lo leggerò quest'estate, poi è bello il giallo un po' macabro d'estate, ci sta sempre. A proposito di estate, mentre facevo ricerchine per quel video che vi volevo preparare appunto su qualche horror, che poi non sono per forza tutti horror, però ecco diciamo che un po' al filone dovrebbe essere quello, sono incappata nei romanzi di Fear Street, che non mi ricordo mai per cosa sta R-L-Sign, non mi ricordo, ve lo giuro, c'ho un voto, lo sto cercando, è per quello che sto parlando così come una deficiente, ma non riesco a trovarlo. Vabbè, lui lo conosciamo tutti, è lo stesso scrittore, no, non c'è scritto neanche qua, è lo stesso che ha scritto tutta una serie di piccoli brividi, Brividi, Bruce Bums erano in inglese, vedete che non mi ricordo, vabbè, Fear Street da noi è famoso perché esistono i tre film che sono usciti per Netflix, quando vi parlai che dovevano uscire questi film per Netflix e di Fear Street, in un video di quelli che facevo ogni tanto, che erano quelli tipo leggimi un film o una serie tv, in cui vi parlavo appunto dei vari adattamenti che sarebbero stati fatti da romanzi, fumetti, vari ed eventuali nel corso dell'anno, vi avevo detto che Fear Street è una serie che più o meno è come quella appunto di piccoli brividi, è tutta ambientata nello stessa cittadina, nello stesso luogo, quindi ricorrono in tutti i vari romanzi praticamente gli stessi luoghi e molto probabilmente anche dei personaggi che stanno lì fissi, romanzo per romanzo, ma la storia cambia di romanzo in romanzo, sono sempre comunque una serie di libri per ragazzi, non è roba per adulti, nulla toglie che ve lo potete leggere anche voi adulti, per dire che comunque il target è un altro, lo dico perché questa cosa, perché spesso e volentieri viene fatta questa, che se torniamo sempre al solito discorso di quelli che devono comprare le balle, perdonatemi, lo so ogni tanto però mi scappa e lo devo rifare, quando leggiamo un romanzo contestualizziamo anche l'età, perché è inutile dire è scritto in maniera semplice e un po' banalotta, se un libro scritto per un bambino di 11 anni sicuramente non sarà scritto come se l'avesse scritto John Steinberg e quant'altro, perché ragazzi è sempre un libro per un bambino di 11 anni che può contenere anche delle metafore pazzesche e anche dei messaggi incredibili ma tu glielo devi far capire con un linguaggio per un bambino di 11 anni sempre, questo adesso non so se è per dei bambini di 11 anni, sa di fatto che comunque la fascia d'età non è quella degli adulti e quindi io immagino che mi ritroverò capito, una scrittura piuttosto semplice, questo tomone chiamiamola racchiude uno, due, tre, quattro romanzi che sono i primi proprio di Fear Street poi in realtà Fear Street è il filone principale poi ci sono anche delle specie di spin off di Fear Street l'ho controllato tutto su Wikipedia non mi chiedete altre informazioni perché non so assolutamente niente questo ancora non l'ho letto però secondo me è interessante al di là del mi serviva per appunto fare questo video però ero curiosa da tempo di leggere ancora qualcos'altro di questo scrittore io ho letto il suo libro che ha scritto per gli adulti che se lo trovo ve lo dico che si chiamava Superstizione che però non lo so secondo me nella scrittura per adulti non aveva la stessa efficacia della scrittura per ragazzi cioè io anche da adulta leggere o rileggere alcuni dei piccoli brividi mi non so cresce di più il senso di angoscia rispetto a leggere appunto quel romanzo che in realtà invece era per un pubblico adulto e quindi secondo me gli è più congeniale la scrittura per ragazzi sono molto curiosa di leggere questo libro veramente molto curiosa poi a me piacciono queste cose della cittadina quel gruppo di ragazzini cioè mi fa un po' tutta quel filone di libri quando è spoiler per farvi capire di che parleremo spoiler pazzesco questo vabbè ma ci siete arrivati non ci ne manco come lo dico poi librone mega gigante che è bel green questo tratta del tema del passing ve l'avevo già fatto vedere in uno degli ultimi mercatini secondo me non nell'ultimo ma nel penultimo questo l'avevo comprato a Brescia con Selvaggia l'avevano trovato al libraccio non dico come l'aveva lanciato in faccia perché lei è elegante non lo farebbe mai sono io quella che lancia i libri di solito l'hai letto e lancio i libri lei non è così e questo libro lei l'ha amato tantissimo le è piaciuto da morire io sono sincera non lo conoscevo quando mi ha detto che trattava del tema del passing ho detto bellissimo voglio assolutamente leggerlo non aspettate New York primi anni del novecento una ragazza appassionata ai libri reali si fa best del destino salendo tutti i credini della scala sociale e professionale fino a diventare la direttrice della favolosa biblioteca del magnate JP Morgan e la beniamina dell'astrocazia internazionale con il falso nome di Belle da Costa Green Belle Green per gli amici e poi si scoprirà ovviamente che ha questo problema della discendenza immagino afroamericana non lo so bene ancora qual è la trama di questa storia voi sapete che di recente è uscito sia il film l'avevo anche già detto Passing tratto dal romanzo di Nilla Lawson credo che si chiamasse non ho visto il film non ho letto il libro ancora ve lo dissi all'epoca ve lo ripeto ancora adesso io ho lessi La metà scomparsa che è da qualche parte qua in alto credo forse sullo scaffale ancora più in alto Lo specchio della vita l'ho citato sempre quelli sono sempre quelli che trattano l'ultima del Passing se avete altri libri fatemi sapere perché comunque è interessante non vedo l'ora assolutamente di leggerlo poi mi piace tantissimo la copertina non lo so è un bel volumone storico America dei primi del novecento mi incuriosisce sempre ultimo libro c'è il mio più uno sappiate che questo non lo trovavo mi stavo già agitando l'altro giorno questi fanno parte di quella collezione dei romanzi della letteratura giapponese contemporanea del Corriere della Sera che è uscito l'anno scorso se non lo sapete ve lo metto comunque qua sotto il Corriere della Sera quest'anno invece propone sempre per la questione del Giappone una serie di saggi che parlano appunto di cultura storia e tutte cose tutte cose che riguardano il Giappone sono 20 uscite queste invece furono 25 se non ricordo male il prezzo di 8,90 euro esattamente come queste qua della letteratura giapponese io per adesso ho preso il primo non sono convintissima di prendere tutti gli altri ma banalmente perché ultimamente di saggi ne leggo veramente molto pochi l'idea di lasciarli lì a prendere della polvere per degli anni non mi sconfinferà tantissimo perché i libri so che tanto prima o poi li leggo i saggi purtroppo sono tanti anni che io non leggo dei saggi a meno che non mi tocca leggerli per scuola cosa che mi sta succedendo in questo periodo e quindi ecco l'altro discorso e perciò non lo so bene che cosa farò vedremo a limite ne recupero uno ogni tanto comunque a parte questo la ciclina dell'ottavo giorno non lo trovo ovvio perché in realtà l'avevo già messo da parte perché è da almeno un mesetto che avevo intenzione di farvi questo video e me l'avevo messo da parte appunto dicendo è uno dei libri che vorrei leggere quest'estate di questo ho sentito parlare tantissimo e anche fin troppo fin troppo nel senso che stavo ascoltando una volta una puntata del podcast che ne parlava che io non so tipo devo aver raccontato tre quarti di trama spero di no spero fosse soltanto l'inizio perché a un certo punto ho bloccato il podcast e ho detto non voglio più sapere niente a tutti voi che fate video nei quali parlate di libri podcast e quant'altro vi prego limitatevi sul raccontare la trama non c'è bisogno di raccontare tre quarti di libro perché una persona dopo veramente ne passa la voglia di leggersi tutto il libro perché vi giuro ad un certo punto ho detto ma mi stai raccontando tutto che poi magari non è vero però ditelo cioè dite piuttosto sembra che vi sto raccontando tutto ma vi assicuro che sono soltanto le prime dieci pagine perché ci sono di quei libri in cui nelle prime dieci pagine succede c'è veramente l'universo mondo e dopo invece procede con molta più calma e sembra che vi sto raccontando mezzo libro quando in realtà vi ho raccontato soltanto dieci pagine cioè come se vi raccontassi veramente le prime venti pagine di via col vento ne succedono d'ogni nelle prime venti trenta pagine di via col vento sembra che vi ho raccontato mezzo romanzo però in realtà vi ho raccontato pochissimo basta dire sono avvisate ditemelo cioè sembra sono un po' rompiscata un po' noiosetta lo so comunque di che parla è ambientato alla fine degli anni 80 io vi dico poco giuro e c'è questa ragazza che scusate ah già che ha una specie tipo one night stand nel senso che nel caso non si sapesse è quando una serata è andata una botta e via con un ragazzo che conosce un impiegato nella sede appunto centrale per la ditta per cui lavora scopre che però questo qui è sposato e succede poi un patatrack che io non vi dico ma io per dire adesso già tutto quello che succede dopo vi ripeto non lo so se è tanto avanti nella trama spero di no perché sennò uffa che noia e appunto questo libro credo che sia abbastanza famoso comunque mi incuriosisce molto perché è di un'autrice di un'autrice donna uno sapete che mi sto molto appassionando di letteratura femminile giapponese anche qui tratta una tematica che mi incuriosisce molto che poi anche quella della maternità e della situazione femminile in Giappone e quindi insomma vado avanti per chi me l'ha chiesto della questione di riproporre qua sul canale la conferenza anzi le conferenze la tematica era la stessa però erano più di una le conferenze che ho fatto per quanto riguarda appunto la donna nella letteratura giapponese contemporanea non desistete prima o poi arriveranno anche qua prima o poi vi giuro quando ho tempo mi metto qua col quadernino e ve la faccio lo stesso discorso vale per i video di letteratura inglese quando ho tempo vi assicuro che vado avanti non è finito il ciclo è che semplicemente io non ho tempo di prepararmi sono video che impegnavano tanto tempo io di solito mi mettevo tipo d'estate perché avevo i pomeriggi più liberi ciao Sherlock effettivamente mancavi tu su questo canale non sei presente in qualche modo su tutti i santi video una volta c'eri sempre e dici scusa adesso mi ripropongo quindi non non perdete le speranze cioè prima o poi recupero tutto quanto davvero anzi vi ringrazio sempre perché mi date sempre una marea di idee per i video arriveranno anche tutti gli altri adesso se riesco vi giro qualche video appunto di magari 5 più 1 letture per l'estate o comunque con varie tematiche e vediamo non saranno 5 più 1 tipo quello che sto vedendo adesso c'è una sburlata di libri quindi non saranno 5 più 1 ma fa niente tanto apprezzerete spero lo stesso sono video tematici che io amo tantissimo fare però comportano anche un po' di lavoro dietro un po' di lavoro mentale mentre io vi sto facendo il video perché devo mettere due nozioni in croce in quello che dico cioè non mi piace semplicemente farvi l'elenco dei libri come quello dell'antico Egitto cioè due robe raccontarvele comunque mi piace sempre perché sennò se vi faccio l'elenco allora tanto valeva che facessi un post da qualche parte vi cacciavo giù un elenco e era finita lì invece no è bello comunque sempre parlarne quindi fatemi sapere voi se avete proprio una lettura o più letture che avete deciso di tenervi per quest'estate grazie scrivetemelo qua sotto che sono molto curiosa magari vi rubo qualche idea perché magari io ce l'ho quel libro che voi nominate ci sentiamo molto presto qua sotto trovate tutti i contatti a Instagram a Twitter a Ko-fi all'Amazon Shop e quant'altro io vi auguro buone letture vi mando un abbraccio un bacio e a presto ciao